L'Ufficio di Protezione Civile del Comune dell'Aquila e la Protezione Civile della Regione Abruzzo, sala operativa e centro funzionale d'Abruzzo, hanno organizzato per questa mattina in Piazza Duomo all'Aquila l'Esercitazione di Protezione Civile Asterix, ovvero attività di simulazione terremoto in centro storico, che mira a simulare la successione di eventi che potrebbero verificarsi in centro in caso di una scossa sismica di magnitudo 4 della scala Richter. La simulazione si prefigge come scopo quello di testare il piano di emergenza comunale inerente al centro storico e di verificare l'operatività sinergica di tutto il sistema di protezione civile. Infatti hanno partecipato all'Esercitazione tutte le componenti del sistema. Durante l'Esercitazione sono state attivate le seguenti strutture, il COC, Centro Operativo Comunale, il CCS, il Centro Coordinamento Soccorsi e la configurazione di stato di emergenza della sala operativa regionale. Sono stati presenti gli alunni delle scuole elementari e medie. L'Esercitazione rappresenta quindi l'occasione per favorire la conoscenza sulle tematiche di protezione con l'esposizione in una mostra statica di mezzi di protezione civile e di tutte le componenti del sistema. Quindi questa è un'Esercitazione in questo momento che è tesa soprattutto a verificare la macchina come lavora in sinergia. Ad esempio, guardi, appena partita, l'Esercitazione è partita con la sirena dei vigili del fuoco e quella localizzata che segnala gli allarmi, l'antiaerea, diciamo così. Io ho telefonato mediamente alla prefettura, dopodiché ho chiamato il 115, vigili del fuoco. E' già emerso un dato che mi ha risposto per una questione dei punti telecom, vigili del fuoco di Roma, i quali mi hanno dovuto poi passare vigili del fuoco dell'Agora, quindi ci sono voluti due minuti. Dopodiché, quando ho segnalato che c'era stato questo sisma, hanno detto per dare comunicazione, chiediamo, e non hanno, ad esempio, abbiamo visto, probabilmente non hanno l'elenco di tutti, il telefonico di tutti gli uomini in questo momento del Comune.